In occasione del venticinquesimo anniversario della scomparsa di Ivan Graziani, cantautore e chitarrista venuto a mancare a 51 anni, nel corso del 2022 potrebbe arrivare sul mercato un nuovo prodotto discografico intestato alla indimenticabile musicista. Presso gli studi fondati dallo stesso Graziani si sta lavorando a materiale registrato del cantautore prima della sua scomparsa e mai reso pubblico sino ad oggi. Il progetto sarebbe quello di distribuire sul mercato il materiale inedito del cantautore recuperato ed elaborato con l'aiuto di nuove tecnologie da poco disponibili. Non si sa ancora quanti sarebbero i brani recuperati né chi farebbe parte dello staff tecnico coinvolto nell'operazione. Resta il fatto che la pubblicazione di un nuovo album di Ivan Graziani sarebbe un grande evento per tutti i suoi fan che non lo hanno mai dimenticato.